Tempi stretti, una sola settimana per quei pensionati a basso reddito che vogliono recuperare le sottrazioni economiche relative agli adeguamenti del costo della vita. Oggi il Movimento Consumatori propone una class action. Abbiamo lanciato in questi giorni un'iniziativa per il recupero degli adeguamenti al costo della vita dei pensionati che sono stati sottratti dal governo Monti e non restituiti pienamente dal governo Rentzi non ottemperando alla sentenza della Corte Costituzionale. Però vogliamo sottolineare che non è un'azione così occasionale oppure per recuperare un po' di soldi perché quello che chiediamo è soltanto il bollo che è dovuto allo Stato e l'iscrizione alla nostra associazione. Questo perché, lo diciamo, perché questa iniziativa come altre che annunzeremo si inserisce nella linea del Movimento Consumatori emerso dall'ultimo congresso che è quello di affermare la cittadinanza economica dei città. Dovrebbero fare qualcosa i pensionati? I pensionati devono recarsi allo sportello che noi abbiamo aperto in Via Cavour muniti del cedolino del 2012 e del cedolino di febbraio del 2012 e del cedolino di agosto del 2015. Noi gli daremo tutte le informazioni e vogliamo mettere sull'avviso perché quello che ci ha indotto a qualificare questa nostra iniziativa è che i pensionati che noi abbiamo mobilitato con un'azione che stiamo facendo da un mese poi si recano da consiglieri che li indirizzano male. Intanto, per le adesioni e per le eventuali domande in merito, i cittadini pensionati possono chiamare a Campobasso il numero 327-4478-907, a Isernia il 389-88-36-206, a Termoli il 333-11-68-612, a Venafro il 338-89-93-373.